Ciao amici, oggi vi proponiamo dei dolcetti veloci e golosi, le ciambelline di mela e pasta sfoglia. È una di quelle ricette che tutti vorremmo a portata di mano quando si presentano gli invitati dell'ultimo minuto. Non andrete più in panico, ve lo assicuriamo, questa ricetta vi salverà la giornata. Venite con noi in cucina. Iniziamo la ricetta prendendo un panetto di pasta sfoglia di circa 650 grammi. Chi volesse vedere la nostra ricetta può visitare il link in descrizione. Spolverizziamo il banco da lavoro di farina e lo stendiamo in una lunga striscia di 2-3 mm di altezza. Tagliamo poi a metà l'impasto e lo trasferiamo in freezer per 10 minuti. Nel frattempo prendiamo 3 mele golden e le sbucciamo. Le tagliamo poi a fette di 2-3 cm di spessore. Prendiamo un coppapasta di 3 cm di diametro ed eliminiamo il torsolo centrale dalla fetta. Facciamo la stessa cosa con le restanti. Prendiamo un piatto e mettiamo 4-5 cucchiai di zucchero di canna integrale, un cucchiaio di cannella e mescoliamo. Aggiungiamo i semi di vaniglia e continuiamo a mescolare. Mettiamo da parte fino al bisogno. Riprendiamo la sfoglia dal freezer, la posizioniamo su della carta forno e tagliamo delle strisce di circa 2 cm di larghezza. Prendiamo ora una fetta e ricopriamo entrambi i lati con il composto di zucchero. Poi arrotoliamo la pasta sfoglia attorno alla fetta di mela. Se necessario utilizziamo anche più di una striscia. Infine ricopriamo solamente una parte con lo zucchero e posizioniamo il bocconcino sulla carta forno. Facciamo lo stesso procedimento con le restanti. Cuociamo a forno preriscaldato 180 gravi per 20-22 minuti. Et voilà! Ammirate che belle sono queste piccole creazioni! Come ben vedete siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio e adesso gustiamo queste meravigliose ciambelle di mele. La sfoglia è bella croccante e la mela all'interno è scioglievole e perfettamente caramellata. La cannella dà un gusto in più che va a completare perfettamente il dolce. Insomma una tira l'altra. Sono assolutamente da provare! Ok amici il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla ma a noi può fare la differenza. Visitate anche i primi due link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video! Ciao! 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 Grazie.